Andranno tutti a processo i componenti della banda coinvolta nella rapina costata la vita a Francesco Traiano, il titolare del bar tabaccheria di Foggia, morto a causa delle ferite riportate durante un assalto al suo locale, messo a segno il 17 settembre 2020. Dopo una lunga udienza preliminare, durata circa sei ore, il giudice ha deciso per il rinvio a giudizio dei quattro ragazzi foggiani arrestati il 25 febbraio scorso, Antonio Bernardo, Cristian Consalvo, Antonio Pio Tufo e Simone Pio Amorico, di età compresa tra i 21 e i 24 anni. Il prossimo 18 giugno saranno in aula davanti alla corte d'assise di Foggia, mentre l'unico minorenne del gruppo, il 17enne Antonio Pio Colucci, accusato di aver inferto la coltellata mortale a Traiano, è sotto processo a Bari. Si sono costituiti parte civile la famiglia della vittima, il comune di Foggia e la camera di commercio. Quattro dei cinque imputati, al momento tutti in carcere, rispondono a vario titolo dei reati di omicidio, rapina e furto. In base a quanto accertato nel corso delle indagini, il giorno della rapina, in tre, Colucci, Tufo e Bernardo, fecero irruzione nel bar tabaccheria mentre Consalvo aspettava in macchina. L'unico a non essere presente sulla scena del delitto era Amorico, accusato solo di favoreggiamento. Il titolare tentò inutilmente di impedire ai malviventi di aprire il registratore di cassa. Nella colluttazione che ne seguì, l'uomo venne accoltellato al volto dal minorenne e poi preso ripetutamente a calci anche quando era ormai a terra esanime. Un assalto portato a termine con una violenza inaudita per un bottino di non più di un centinaio di euro e una manciata di biglietti gratta e vinci.